Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto una partita! C'ho oramai il cuore che batte quasi come se avessimo adesso vinto il campionato, ma veramente... Voi non potete capire se non siete milanisti che cosa abbiamo dovuto subire in quest'ultimo periodo. Venivamo da otto partite consecutive senza vittoria e venivamo da quattro sconfitte consecutive. Ragazzi il Milan era nel momento più nero degli ultimi... almeno negli ultimi due o tre anni, ma probabilmente un momento così negativo per così tante partite era veramente dai tempi di Brocchi e di Zaghi che non lo vedevamo. Finalmente riusciamo ad uscire, speriamo almeno di riuscire ad uscire da questo momento negativo grazie a questa vittoria che ci rilancia un minimo in classifica e ci dà un pelo di tranquillità perché veramente gli ultimi risultati avevano reso il Milan nervosissimo sul campo e si vedeva con giocatori che si mandavano a quel paese a vicenda e un Milan che dietro prendeva sempre imbarcate su imbarcate un Milan che davanti non combinava mai niente, insomma un Milan disastroso da tutti i punti di vista oggi finalmente, finalmente, si è visto qualcosa di diverso ora chiariamoci, non è che oggi abbiamo visto un Milan trascendentale cioè non è che oggi abbiamo vinto la partita, che Milan, siamo tornati tremate napoletani, trebati... no, assolutamente no lungi da me fare discorsi del genere però quello che almeno ho visto oggi in ottica di una squadra che dovrà lottare per arrivare nelle prime quattro posizioni non è per niente scontato noi prima di giocare questa partita eravamo sesti in classifica ora credo momentaneamente siamo terzi però bisogna aspettare di vedere cosa fanno Atalanta, Lazio che si sfidano cosa fa la Roma, eccetera, eccetera cosa fa l'Inter, ma l'Inter secondo me arriverà più avanti di noi il discorso è che in ottica appunto di una squadra che deve lottare per entrare in Champions oggi finalmente ho visto lo spirito di sacrificio almeno ho visto la voglia di fare quella corsa in più per il compagno la voglia di lottare fino all'ultimo pur sapendo che la partita era difficile perché ragazzi il Torino ha giocato una partita tosta, rognosa ma noi lo sappiamo come è il Torino non a caso il Torino quest'anno ci ha battuto due volte io vorrei far notare che il Torino quest'anno era la nostra bestia nera voi direte, un po' tutte le squadre sono la bestia nera del Milan specie in quest'ultimo periodo è vero, è vero però il Torino, a parte che è un Torino settimo in classifica subito dietro le sei big tolta ovviamente la Juventus che è stata penalizzata quindi diciamo, il Torino è sicuramente una squadra più che vaida perché subito dietro le più forti però è proprio una squadra che per il modo di giocare che ha a noi ci rende veramente la vita difficile nelle partite ricordo appunto, ci aveva battuto in campionato 2-1 in una partita giocata malissimo dal Milan e in casa nostra ci aveva battuto in Coppa Italia negli ottavi di finale in dieci uomini supplementari quindi è chiaro che la squadra sapeva che doveva affrontare una partita difficile e il Torino, ripeto, è una squadra fisica è una squadra che ha molti centimetri è una squadra che diciamo pressa anche molto oggi poi in genere il Torino è più magari una squadra che sta anche raccolta ma oggi le squadre avversari non sono stupide il Torino sapeva che il Milan era in un momento difficile quindi veniva a pressare anche molto alto e ci metteva in difficoltà nella costruzione dal basso tant'è che nel primo tempo noi abbiamo fatto altro che lanciare palloni lunghi perché noi non riuscivamo a costruire però siamo riusciti a vincere questa partita contro una squadra forte fisicamente contro una squadra che ci mette sempre in difficoltà e che proprio è un gioco che noi soffriamo tanto ma forse con questo 3-5-2 questo tipo di partite contro le squadre fisiche così le riusciamo a gestire un po' meglio il primo tempo non lo abbiamo fatto molto bene va detto nel primo tempo è stato un primo tempo un po' bloccato dove però noi di fatto non abbiamo creato nulla perché nel primo tempo le uniche occasioni che abbiamo creato sono due tiri sbilenchi di Teo Hernandez e un tiro sbilenco di Salemakers così a memoria non abbiamo veramente creato niente un primo tempo dove Giroud ha sbagliato tutte le spunte che poteva sbagliare infatti cioè non dico che a fine primo tempo Giroud fosse il peggiore in campo però veramente davanti non ne aveva presa una aveva sbagliato un sacco di sponde Lea un po' evanescente una squadra un po' sottotono dove il Torino in realtà aveva avuto le occasioni migliori una a gioco fermo dove Tataruzano aveva fatto una gran bella parata poi appunto l'arbitro ha fischiato fallo non sono così convidio che ci fosse quel fallo comunque Tataruzano aveva fatto una bella parata e Tataruzano che poi si è superato su Sanabria quando c'è stata l'unica vera occasione questa nuova a gioco fermo del Torino con Giroud perché diciamo il pallone aveva il pallone in pieno controllo è scivolato e Sanabria si è trovato solo davanti al portiere per fortuna Tataruzano era lì vicino e riuscì a chiudere lo specchio a parare quindi Tataruzano anche decisivo nel primo tempo ha fatto una buona partita oggi perché va detto quando Tataruzano gioca male siamo sempre lì a criticarlo ma quando fa delle buone partite va detto oggi buona partita anche abbastanza solido nelle uscite comunque senza errori particolari tant'è che è riuscito anche a fare un clean sheet cosa che non gli riusciva da tempo in memory però insomma quel primo tempo sì Tataruzano bene Ciao molto bene nel primo tempo mi è già piaciuto molto solido però un primo tempo un po' così in espresso tra le squadre ma il Torino aveva avuto più occasioni del Milan il Torino sembrava a critici più del Milan il Milan sì sembrava più solido in difesa rispetto alle ultime partite secondo me anche per merito di Ciao che ha giocato veramente un'ottima partita ma dava l'impressione comunque il Milan di essere molto impaurito specie quando doveva attaccare perché davanti veramente c'era un terrore incredibile quando si superava il metà campo sembrava che non si sapeva mai che cosa fare e diciamo un Milan che sembrava ancora essere nel momento sfigato perché Kier che ha un pieno controllo del pallone scivola e ormai Sanabra faceva un gol così insomma un gol così sarebbe stato proprio l'emblema del momento del Milan il Milan è in un momento speriamo di esserci uscito oggi talmente negativo che facendo una metafora molto poco fine e se il Milan fosse una persona se gli cadesse il pisello gli rimbalzerebbe nel culo metafora stupida e non vi dico neanche da dove ho preso però per spiegare con una metafora idiota com'è il momento del Milan ma cazzate a parte il secondo tempo è stato diverso però nel secondo tempo si è visto qualcosa di più qualcosa di meglio perché dopo un inizio del Torino ancora forte nel secondo tempo il Milan finalmente ha iniziato a credere un po' di più in quello che stava facendo perché l'impressione sia nel derby della settimana scorsa sia in questo primo tempo col Torino era che i giocatori del Milan non ci credessero tanto neanche loro in questo 3-5-2 forse questo primo tempo finalmente senza subire gol una solità difensiva che sembrava essere un po' ritrovata il Torino che si ha avuto quell'occasione lì ma su diciamo una scivolata di Kier un errore così estemporaneo ha avuto qualche occasione con qualche tiro da fuori che ha lambito il palo però forse il Milan ha preso fiducia e finalmente ha iniziato a creare delle occasioni Leao davanti a Milinkovic Savic si fa ipnotizzare dal portiere che pare in uscita poi Giroud tira di sinistro da posizione favorevole dopo una bella azione di Diaz Milinkovic para la palla gli sfugge sta per entrare in porta riesce a bloccarla sulla riga di porta e anche lì ho cominciato a dire ecco ragazzi non ce la facciamo è un momento sfigato e tutto e poi invece arriva finalmente il gol Teo Hernandez mette un bel pallone al centro Giroud in torsione di testa la mette nell'angolino bellissimo gol di Giroud bellissimo cross di Teo e finalmente speriamo che questi due giocatori Teo e Giroud che sono andati al mondiale e sono tornati molto scarichi molto spompati speriamo siano usciti da questo momento difficile grazie a questo gol e a questo assist speriamo veramente che possa aiutarli questo gol a farli uscire da questo momento difficile ecco dopo il gol il Torino ci prova però di fatto non crea tantissime occasioni qualche mischia in area qualche tiro appunto che va vicino alla porta però il Milan avere l'occasione grande per chiudere la partita con Teo Hernandez che su una discesa di Caluru sulla fascia Teo Hernandez tutto solo in area un rigore in movimento lo tira di poco fuori ma poi il Milan è bravo a difendere compatto e solido come ho detto c'è questa voglia c'è stata questa voglia di chiudere tutti i buchi di correre di fare la corsa in più di fare lo sforzo in più e riusciamo a portare a casa la vittoria anche tenendo la palla sulla bandierina all'ultimo minuto continuamente fare laterali bandierie abbiamo cercato di fare squadra insomma non era un Milan bello da vedere però è stato un Milan finalmente solido che è stato squadra e questo tanto basta in questo momento abbiamo portato a casa una vittoria importantissima è una menzione d'onore per Ciao ragazzi per me Ciao oggi migliore in campo nonostante il bel gol di Giroud il bel cross di Teo la bella prestazione comunque di Tatarosa per me migliore in campo è proprio Ciao perché veramente per me nella difesa 3 lui si esprime meglio perché lui era un giocatore che giocava nella difesa 3 e oggi io veramente l'ho visto autoritario di testa le palle erano tutte sue anticipava certe volte strappava anche sulla fascia pur non essendo veloce una fisicità importante per me ha fatto un'altra partita io se continuiamo con questo modulo cosa che visto che abbiamo fatto questa vittoria penso proprio di sì mi auguro veramente che venga messo lui e non gabbia come terzo difensore perché secondo me ha fatto un partitone e magari la nostra risalita per cercare di agguentare un posto in Champions può arrivare anche da Ciao un giocatore del mercato estivo spesso criticato perché non ha mai visto il campo tutti direi ma che acquisto è e magari alla fine si rivela un buon acquisto bastava solo mettere la difesa 3 oggi grande partita speriamo sia di buon auspicio per le prossime ora vado a bere vado a tranquillizzarmi perché è stata una partita pesante noi ci vediamo domani per la live reaction è un'esultanza a un gol del Milan che mancava da tanto tempo e vai finalmente non mi tocca mettere solo canzoni tristi nella live reaction di domani che si tratta di domani